Arianna Lazzarini continua la battaglia della Liga Veneta contro lo Stato centrale a favore dell'indipendenza e in Consiglio regionale cerchete appunto di riportare la proposta del referendum? Sicuramente sì, essendo anche segretario organizzativo regionale della Liga Nord Liga Veneta, ricordo la grande gazebata che abbiamo fatto l'1-2 marzo, coprendo 560 comuni del territorio veneto, ovvero l'80% di tutti i comuni, noi ne abbiamo 581, è stata una grande gazebata, abbiamo raccolto oltre 150.000 firme, la gazebata sta andando avanti perché lo spirito e l'entusiasmo c'è, continua ad esserci, assieme faremo anche quella delle proposte, i 5 proposti del referendum depositati in Corte Cassazione, ovvio che noi adesso abbiamo finito proprio giovedì notte il bilancio, la lunga maratona del bilancio regionale, nostro obiettivo è quello di portare il prima possibile in Consiglio questo nostro progetto di legge numero 342 per indire il referendum per l'indipendenza del Veneto. Continuano le firme online e tanta gente sembra aderire a questo progetto. Come giustamente ha detto anche prima il segretario federale, tutti coloro che sono promotori di un qualcosa che per il bene del nostro Veneto, visto anche che ogni anno noi lasciamo giù 21 miliardi di tasse e ne ritorna praticamente un 10-15% è ovvio che la battaglia diventa la battaglia di Veneti, a di là del colore politico. In questo momento anche per Biscito sta facendo un'iniziativa simile alla nostra, noi naturalmente abbiamo fatto con i nostri gazebi come siamo abituati a fare nel territorio, con le persone fisiche che hanno firmato, però tutti coloro che possono essere sostegno di questa nostra battaglia benvengano.